Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi inizia un altro weekly vlog e se volete sapere cosa succederà durante questa fantastica settimana e volete farlo insieme, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. Nella meno rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene raga, oggi è lunedì e mi accingo a tornare in palestra. Quindi niente, magari firmo qualcosa da dentro, non lo so cosa farò, vedremo insieme. A dopo, ciao! E raga, nuove collaborazioni ancora, ho messo la giacchettina di Anita che non so poi stasera se farà freddo o meno e sotto ho messo lo scamiciato di Shein. Dovrebbe arrivare la Vale. Eccola! Mi faccio vedere. E' arrivata. Allora raga, intanto vi faccio vedere come ho messo a posto bene e lì c'è la mia nuovarella sulla quale ci sono praticamente dei vestiti tra cui devo scegliere per uscire stasera. Ora, vi faccio vedere il mio make-up che dovrebbe essere molto 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 carino. Forse ho esagerato con le lentiggini. Vabbè, se volete sapere come realizzo questi make-up super glowy, super sunny e anche super lentigginosi scrivetemelo nei commenti così vi faccio i tutorial. Adesso io vado a cambiarmi, vi faccio vedere dopo l'outfit completo. Noi ci vediamo dopo. Ciao! Eccomi qua, questo qui è il look finito. Allora, ho deciso di mettere questi stivali che sono sempre, li ho presi sempre su Shein. Il vestito anch'esso di Shein e la borsa invece di Moschino che è dello stesso colore degli stivali. Eventualmente, anche se è sera, utilizzo questi occhiali da sole che hanno la lente blu che vira al beige e sono praticamente dello stesso identico colore della borsa e delle scarpe. Comunque, questo è il look finito. Vi faccio vedere. Vabbè, anyway, comunque è molto carino. Vediamo, mi metto così. Vi vedete anche dietro che è praticamente tutto 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 aperto il vestito. E qua ha un fiocco. E poi ho fatto questa pettinatura che è la mia solita, che mi facevo anche coi capelli corti, che tutti mi chiedete come fai a farla? Come fai a farla? Niente, metto i capelli dietro le orecchie e li fermo qua sotto. Va bene. Comunque, boh, mi piace molto. Spero che piaccia anche a voi. Io esco perché sono già di otto e mezza. Ciao! Buongiorno, oggi è giovedì. Ho trascorso la mattina a fare la programmazione di tutti i video che devono andare fino a novembre nel canale nuovo che si chiama Accademia della Legge di Attrazione. Ragazzi, iscrivetevi perché saranno tutti senza pubblicità, quindi senza interruzioni, e soprattutto perché metterò tutti i video, non solo quelli nuovi ma anche quelli più vecchi. Per esempio, da lunedì ci sarà praticamente la... ogni lunedì ci sarà la rubrica sulla gratitudine con tutti gli esercizi. Questo fino a novembre, ragazzi, quindi fatelo. Io adesso vado che è un appuntamento, ma prima pulisco la macchina perché fa schifo. Ci vediamo dopo, ciao! Venerdì mattina, sto andando a fare un controllo dal medico per questa roba qua, e praticamente c'è un vento fotonico. Guardate, qua per terra ci sono tutti i rami degli alberi, ma è un vento bollente, sembra quasi di aver il fonna addosso, tipo scirocco. Mai capitato in questa zona, la prima volta che è sempre in questa antepidemia. Buongiorno, raga! Oggi sono le 6 e 20 e non riesco più a dormire, per cui mi sono alzata e sto andando ad aprire le tapparelle un po' ovunque, poi mi farò un caffè e filmerò qualcosa per i social. Allora, ve lo avevo promesso, vi faccio vedere come ho messo a posto lo studio. quanto non è bello il mio studio alle 7 della mattina. Andiamo anche, 6 e 40. Che figata! Quindi ho messo a posto lo studio. Devo mettere a posto la scrivania, ma perché ieri ero di fretta e mi son truccata, ma basta mettere a posto due cose. Ed è tutto qui. Qui ci sono le scarpe e qui c'è proprio lo studio. Guardate quanto è bello. Quanto è faigo. Ho preso questa rella da tenere fuori per mettere o i vestiti che devo mettere magari per delle serate, che mi ha dato magari l'ufficio stampa che voglio mettere magari per delle serate dove faccio delle collaborazioni oppure quelli che devo filmare tipo quando mi arrivano i pacchi di Shein oppure quelli che devo preparare per il shooting come per esempio quelli di oggi pomeriggio che però li vado a portare di là perché avrò quasi esclusivamente roba di intimo e quindi niente, li porto di là. Comunque, that's it. Che carino non è il mio studio. Ma quanto mi piace? Tantissimo. Adesso mi metto qua e filmo un po' di video. Ciao! E raga, shooting time. Ho tirato fuori un po' di vestiti. Sono nella villa del fotografo che si chiama Flavio Torre. Probabilmente ve lo ricordate perché siamo amici praticamente da tantissimo tempo e ho portato un po' di cose. Faremo delle foto con vestiti ma anche lingerie perché come sapete c'è questa collaborazione con Nuditta e volevo farvi vedere insomma la lingerie a me sta bene. Quindi niente, ci vediamo dopo e vi faccio vedere magari un po' di vestiti. Grazie a tutti. Bella raga, allora avrei voluto chiudere il vlog ieri mentre ero da Flavio a fare le foto però mentre faccio le foto abbiamo fatto veramente tutti completi, tutte le robe e quindi non c'è stato tempo di chiudere il vlog. Dall'altra parte sono arrivata a casa ho trovato traffico per cui ci ho messo mezz'ora in più quindi ho messo più o meno un'ora e mezza a tornare a casa. Quando sono arrivata a casa ero stanca morta l'unica cosa che volevo era solo rilassarmi anche perché ieri mattina mi sono alzata tipo alle 6 e quindi ieri non ce l'ho fatta a chiudere il vlog per cui lo chiudo adesso e vi ricordo le cose importanti. Allora la maratona dei desideri sarà nella settimana del 10 luglio immagino probabilmente 11-12 oppure 12-13 oppure 11-13 insomma vedremo un attimino come farla però ve lo annuncerò prestissimo ci sono ancora i download gratuiti della checklist per manifestare denaro trovate i link su Instagram perché questa promo ve lo ripeto per l'ennesima volta è una promo che io ho fatto per i miei iscritti per i miei follower di Instagram per cui se non mi seguite su Instagram teoricamente questa promo non è per voi ok quindi vi chiedo davvero di essere onesti rispettosi che altro dirvi quindi ci saranno i download gratuiti fino all'inizio delle dirette probabilmente se ne rimarranno ma dubito perché stanno andando via veramente ogni volta che pubblico il link nuovo ci mettono 60 secondi e vanno via tutte quindi dubito che riusciremo ad arrivare alla diretta con ancora delle cioè oltre la diretta con ancora dei download magari ne metterò di nuovi ogni tanto nelle storie metto un download in più metto un pacchetto in più di download questo perché perché tante persone non riescono magari a scaricarlo di notte perché lavorano perché quindi vanno a dormire presto per cui dato che vanno via in 60 secondi magari lo metto anche a mezzogiorno ecco ho cercato di aiutare un po' tutte quelle persone che non sono riuscite a scaricarlo gratuitamente però andranno avanti i download per cui assolutamente seguitemi nelle storie perché trovate tutto lì altra cosa da dire il nuovo canale quello in cui sto ripubblicando i video tanti di voi allora il canale si chiama Accademia della legge di attrazione ok lo trovate linkato qui sotto tanti e tanti di voi continuano a ringraziarmi per aver fatto questo canale e io sono contenta perché io ero già sicura del valore di questo canale perché trovate ripubblicati tutti i video di crescita personale gratitudine e legge di attrazione attualmente ci sono il lunedì la puntata sulla gratitudine quindi tutti gli esercizi della gratitudine sulla gratitudine li trovate pubblicati il lunedì con la programmazione estiva vengono pubblicati alle 7 del mattino per cui tutti i lunedì alle 7 del mattino avrete un esercizio nuovo per praticare la gratitudine costantemente nella vostra quotidianità il martedì e il giovedì ci sono i due video sulla cre... no sulla legge di attrazione sì dovrebbe essere martedì e giovedì ci sono i video sulla legge di attrazione mercoledì e venerdì ci sono i due video sulla crescita interiore o crescita personale attualmente per quanto riguarda la crescita personale ho pubblicato la rubrica dei nove fraintendimenti quindi tutte quelle parole e tutti quei concetti che ci impediscono di crescere e mi pare che sia tutti i mercoledì o tutti i martedì sempre alle sette del mattino ci sono pubblicate come vedete tutte le rubriche settimanalmente tante persone che stanno seguendo mi hanno ringraziato perché per due motivi uno perché non riuscivano più a trovare magari dei video vecchi che però sui quali volevano studiare e così invece sarà facilissimo ritrovarli due perché questi video su questo canale dato che il canale ancora non è monetizzato non sono interrotti dalla pubblicità per cui ce li avete veramente tutti 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 dritti quindi iscrivetevi al canale soprattutto se volete fare dei percorsi di crescita interiore di legge di attrazione di gratitudine iscrivetevi al canale perché è gratis non venitemi a dire poi ah ma quindi tu fai corsi per cui ci devi guadagnare io vi do tanti contenuti gratis tantissimi e sono altrettanto preziosi ovviamente sono strutturati in maniera diversa rispetto ai miei corsi non ci sono i pdf non ci sono gli allegati non ci sono gli esercizi iscritti ok però per il momento se avete voglia di iniziare un percorso di crescita personale di crescita interiore e pensate di non avere i soldi da investire in questi percorsi iniziate almeno dai contenuti gratuiti io lo dico per voi a me per me aprire un secondo canale dove ripubblico tutte queste cose è un lavoro enorme lo faccio veramente per l'amore che ho nei vostri confronti e per il desiderio mio in questo caso di mantenere salda di mantenere saldi i principi della mia missione personale di quella che io ho scelto essere la mia missione personale ovvero quella di fare una piccola differenza in questo mondo e di lasciarlo un po' meglio di quello che l'ho trovato mi auguro di riuscire a farla tanti di voi mi scrivono dei messaggi meravigliosi ogni singolo giorno e quindi io vi ringrazio perché questo mi fa capire che sto facendo le cose nel modo giusto l'ultima cosa che vi volevo dire era questa dato che tanti mi chiedono se possono mandarmi delle testimonianze eccetera io adesso sto raccogliendo le testimonianze di tutti coloro che me le vogliono mandare quindi coloro che hanno fatto i miei corsi ma anche coloro che magari seguono semplicemente il canale ok se me le volete mandare me le potete mandare in video con un video in verticale quindi mettete il telefonino in verticale non in orizzontale oppure scritte e io le pubblicherò le farò vedere durante la maratona dei desideri questo ovviamente per me è un gran regalo perché dimostra a tutte le persone che magari non mi conoscono quanto siano efficaci le cose che vi propongo nello stesso momento è una grande cosa anche per voi perché dimostra al vostro campo energetico quanto potete essere grati di tutto ciò che avete ricevuto e che ricevete quotidianamente e come sappiamo la gratitudine apre veramente la nostra vita a grandissimi miracoli bene ragazzi detto questo io vi ringrazio tantissimo di far parte sempre della mia community per me voi siete preziosi e importantissimi e davvero vi ringrazio di cuore adesso mi metto a registrare un po' di video a fare un po' di lavoro e a pubblicare ovviamente il vlog vi auguro una buona domenica e soprattutto una buona settimana che sta per partire mi raccomando siate sempre sul pezzo e quando dico sul pezzo intendo interiormente sul pezzo se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto ma soprattutto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel a meno rimane che salutarvi mandandovi il solito mega mega bacio e tanto ma tantissimo a più Grazie a tutti.